e lettori di F1 in generale, ascoltatori di F1 Podcast, benvenuti al terzo ultimo nuovo GP della stagione 2020 di Formula 1. Si è concluso poco fa il Gran Premio del Baren 2020, un Gran Premio che non ha avuto particolari eventi da un punto di vista sportivo, di eventi in pista riguardanti la gara vera e propria, ma per un evento accaduto al primo giro, alle prime curve, che ha tenuto tutti quanti noi appassionati con il fiato sul collo per tantissimo tempo e che tuttora ci lascia stupiti, sbalorditi per com'è andata, perché comunque un incidente di queste proporzioni, per chi ha seguito la gara lo sa, in Formula 1 non si vedeva da veramente tanto tempo e una violenza, un impatto così violento non si vedeva da tantissimo tempo. Per commentare questo Gran Premio con me, come al solito, ci sono Giuseppe Cinotti, ciao Giuseppe. Un cordiale saluto a tutti i nostri ascoltatori. E il nostro esperto di tecnica Matteo, a quale faremo, penso, molte domande su ciò che è successo oggi. Matteo Quattrocchi, ciao. Ciao a tutti ragazzi. Eh sì, questa volta ci sarà davvero tanto di cui parlare. Esatto, come ho detto prima, diciamo, parliamo più di sicurezza, insomma, aspetti che magari non entrano tantissimo nei nostri topo GP, ma che sono necessariamente, diciamo, l'elemento principale della gara di oggi. Iniziamo, come al solito, con Matteo, che ci farà un resoconto molto veloce della gara dal punto di vista sportivo, perché poi, insomma, inizieremo a parlare di ciò che è accaduto al primo giro. Prego, Matteo. Esatto, qui vediamo appunto il risultato di questa gara davvero infinita, iniziata alle tre, si è conclusa praticamente un'ora fa, quindi verso le sei, siamo rimasti dentro la finestra delle quattro ore, richiesta appunto dalla FIA per il massimo svolgimento di un evento, di cui massimo tre di gara, quindi proprio per il rotto della cuffia, ma ce l'abbiamo fatta. Hamilton riesce, tra virgolette, di fortuna a vincere questa gara dopo una sosta, ecco, forse di strategia, possiamo subito toglierci adesso il pallino del grande evento che è successo a livello strategico. Il pilota della Mercedes ha effettuato la sua prima sosta mantenendo la stessa gomma con cui era partito, quindi ha fatto i primi due stint sulla gomma gialla, e quindi questo l'ha costretto a dover effettuare un'ulteriore, ultima sosta. Sosta che fino a pochi giri dalla fine avrebbe condannato appunto Hamilton a ritrovarsi alle spalle di Hamilton e Perez, ma proprio per un problema appunto alla power unit del pilota messicano della Racing Point, praticamente è entrata in gioco ancora una volta la safety car, questa volta per un caso decisamente più lieve, e quindi Hamilton è riuscito a effettuare la sua sosta, a perdere poco tempo, e quindi riuscire a comunque uscire alle spalle della safety car come primo pilota. Seguono appunto Verstappen e Albon che appunto dopo la beffa del problema al motore di Perez, riesce a risalire dopo una gara davvero in difficoltà e in lunga rimonta, a riguadagnare quei più di 20 secondi di distacco che aveva appunto dal terzetto, che fino a quel momento dettava il passo, e quindi a finire alle spalle del compagno di squadra, che comunque lo ha elogiato per i miglioramenti che ha avuto nelle ultime gare. Come eventi principali ovviamente non si può che non sottolineare appunto il grande crash che ha avuto Grosjean, e diciamo, ci soffermiamo su questa immagine che fa discutere nel bene e nel male, sia dal punto di vista positivo, perché le misure di sicurezza hanno fatto il loro lavoro, e quindi di conseguenza hanno permesso al pilota di uscire indenne, se non con delle ustioni e forse qualche problema osseo, quindi si parlava, si vociferava di alcune costole incrinate, però comunque niente in confronto allo scenario che ci siamo tutti trovati di fronte dopo le prime curve e all'inizio del secondo giro. Bene, quindi i sistemi di sicurezza delle monoposte attuali, possiamo vedere infatti che la parte principale della scocca, quella dove è posizionato il pilota, seppur ovviamente danneggiata dalle fiamme e colorata appunto così a seguito del fumo e del fuoco, che ha avvolto appunto questa zona dell'abitacolo, a livello strutturale sembra davvero rimasta quasi intatta, e quindi questo dimostra che la Formula 1 moderna si focalizzi tantissimo sulla sicurezza di questi piloti, e quindi questo è un primo elemento su cui soffermarci. Altra cosa fondamentale è, notiamo qua, come l'Alo abbia assorbito il colpo di questa paratia del guardrail, che altrimenti sarebbe stata inevitabilmente, con ogni probabilità durante l'impatto, scaraventata appunto sul casco di Romain Grosjean, quindi anche l'Alo ancora una volta ci ha messo del suo e come ci ha abituato. Invece torneremo appunto a parlare appunto di questa situazione anche per l'argomento guardrail, se ha fatto il suo dovere, se doveva farlo in un altro modo, se la posizione e la linea che ha seguito appunto nella sua realizzazione, quindi come è stato posizionato, sia effettivamente il punto migliore, se è stato tutto eseguito al meglio, se ha fatto il suo lavoro o doveva svolgerne un altro. Altri elementi chiave, in questo caso vediamo l'altra racing point, abbiamo già parlato di Sergio Perez, che ha avuto il problema alla sua parola di riunic, qui vediamo dall'ombordo di Sebastian Vettel, un altro dei motivi per cui il pilota tedesco si è trovato davvero molto retrocesso alla fine della gara, soltanto in tredicesima posizione, ma è stato praticamente per la maggior parte del tempo, oltre la quindicesima e a tratti anche ultimo. Il problema è stato proprio quello, cioè dopo uno start non dei migliori e l'incidente ovviamente di Grosjean, che ha bloccato la sessione con una red flag dichiarata e mantenuta per più di 45 minuti, quasi un'ora. Alla ripartenza c'è stato un ulteriore evento, quindi in questo caso vediamo proprio la vettura di di Lance Stroll, l'altro pilota della Racing Point, che in trazione tocca la ruota anteriore sinistra di Kvyat, e quindi viene sbalzata in aria, un effetto in questo caso molto spettacolare, ma per fortuna più a bassa velocità, quindi non c'è stata una grande ripercussione per il pilota, lo vediamo qui, è riuscito a uscire praticamente indenne anche lui, solo un grande spavento e in questo caso tanta spettacolarità nel fatto in sé, però per fortuna nessuna conseguenza grave anche per lui, trasportato ovviamente al centro medico e per i soliti accertamenti appunto dello stato psicofisico. Questi gli eventi principali, e tornando appunto a Sebastian Vettel, qui la sua sfortuna è stata che ovviamente dopo la ripartenza si è fatto prima cosa in filale da il Monegasco, Charles Leclerc, compagno di squadra, e si è lamentato per una situazione come se fosse un Austria 2, quindi dove qui davvero Vettel si è dovuto inventare uno spazio, uno spiraglio per non farsi centrare ancora dal pilota Monegasco, ma anche se sembrava che lo spazio comunque ci fosse per Leclerc, per provare l'imbucata e portarla a termine, e poi doppiamente sfortunato Vettel, perché poco dopo si è ritrovata appunto la vettura di Lance Stroll decollargli letteralmente davanti agli occhi e di conseguenza è stato costretto a quasi fermarsi per scartarlo in sicurezza e lì ha perso ovviamente tante posizioni con le vetture che lo passavano in scioltezza sul lato destro della carreggiata. Quindi questo è il succo proprio riassunto dei principali eventi che hanno caratterizzato questa prima tappa del back-to-back in Medio Oriente in Bahrain, imprevisto per quest'anno. Grazie Matteo. Io volevo iniziare la puntata facendo una riflessione, diciamo generica. Più e più volte io a livello personale, ma come con me tanti addetti ai lavori, abbiamo criticato la Federazione Internazionale per tante scelte dal punto di vista sportivo, che tuttora io non riesco a spiegarmi, non riesco a capire. Però il rovescio della medaglia di tutto questo è che dal punto di vista della sicurezza la Federazione ha un'attenzione e una cura maniacale, come è giusto che sia, perché comunque parliamo di persone che corrono a 300 km all'ora. E quindi in questo caso capire di chi sia la colpa di ciò che è successo da un punto di vista strutturale della pista è difficile, perché se noi sappiamo bene che la Federazione fa indagini, fa supervisioni prima della gara, all'inizio della stagione, comunque i circuiti vengono controllati tante e tantissime volte, anche durante il weekend stesso vengono apportate delle modifiche. A maggior ragione, a maggior ragione. A maggior ragione come quel guardrail non abbia svolto bene il suo lavoro, mi viene di veramente difficile spiegarmelo. Chiaramente adesso verrà avviata un'indagine sull'incidente, perché come ho detto prima una cosa di questo tipo non succede molto spesso. E' da tanti anni che non si vedeva una vettura di Formula 1 prendere fuoco. L'ultima volta che siamo stati vicini a vedere una cosa del genere era, se non erro, in Russia durante la tappa di Formula 2 con la vettura, in questo caso di Luca Ghiotto, che ha preso praticamente fuoco, ma in una situazione diversa, cioè uscendo di curva, se non sbaglio, nel tratto dove c'è quella, mi sembra, tra curva 3 e 4, cioè quella lunga curva verso destra, e lì però è andato, dopo essere stato toccato, è finito contro le gomme, le barriere in gomma, e quindi lì è stata assorbita, assorbito l'urto, e in questo caso non c'è stata un'incolumità in quel senso del pilota per l'urto, se non appunto per la paura, ovviamente per le fiamme, anche lì fortunatamente è subito estinte. Però è una questione proprio del gattere, bisogna studiare l'effetto del gattere. Quello che abbiamo visto oggi, a mio avviso, è stato quasi un effetto pendolo, cioè se ci fate caso, è come se la vettura di Groscian abbia fatto la stessa cosa che ha fatto tipo il Titanic quando si è spezzato, perché è rimasto incastrato, cioè è il peso della parte, se vogliamo, anche posteriore della vettura, che ha fatto sì che si spezzasse, quindi si sia staccata, cosa che non avevamo mai visto, perché fino a questo momento, nella Formula 1 moderna, voglio dire, non avevamo mai visto una vettura che impatta contro i barriere e poi si spezza, cioè magari una vettura veniva spezzata, veniva divisa in due da un'altra che gli andava incontro, ma mai una cosa del genere. Quindi adesso quello che mi chiedo io, le barriere che vediamo in Formula 1, che vediamo in tanti tipi di circuiti, soprattutto quelli cittadini da Singapore, Monte Carlo, Baku, Soci, sono effettivamente sicuri, cioè è legito, sono sufficienti, oppure dobbiamo a questo punto eliminare tutte le barriere che si sono in pista, sostituendole con le gomme che vedevamo, guarda, io ti dico questo, il guardrail ha uno scopo anche nella strada normalmente, il guardrail ha lo scopo di farti rimbalzare e farti ritornare per strada, quindi in questo caso il guardrail non ha nemmeno svolto quella funzione là, io credo che qua sia un discorso di qualità del lavoro che è stato fatto, più che... Però poi ti faccio un appunto, ti do un altro spunto su cui ragionare, adesso vai. Sì, chiaramente come hai detto tu, quando c'è stato il caso di Ghiotto in Formula 2, le gomme hanno assorbito meglio l'urto, però è anche vero che comunque io credo che in questo caso ci sia stato un cattivo lavoro, per quanto riguarda il guardrail, che non ha, non so per qualità, per costruzione, questo poi dopo quando usciranno i risultati delle indagini, lo sapremo, non ha svolto il suo lavoro e francamente vedendo la federazione penso sia difficile pensare che loro stessi non abbiano fatto questo ragionamento. Convenite con me sul fatto che o è il guardrail che era costruito con un materiale pessimo, che magari non conosciamo, oppure se il guardrail era effettivamente a norma e quindi come quelli che abbiamo visto, come vediamo quelli a Monte Carlo e in altri circuiti cittadini, possiamo dire che il guardrail oggi, con le formule moderne, con le velocità che hanno, non sono più, non svolgono più a dovere il loro lavoro, cioè non creano l'effetto rimbalzo. Secondo me è una via di mezzo, tra quello che dici tu giustamente e Tommaso, cioè il guardrail in questo caso non ha fatto il suo lavoro, ma perché secondo me è più una circostanza, o meglio, non è facile analizzare, secondo me non sarà facile analizzare questo evento perché non è facile dare le colpe. Perché? Perché lì è giù, allora tutta la pista deve essere perimetrata e quindi il guardrail di base devi metterlo in diversi punti, in diverse posizioni, ma tutto attorno al circuito. Ora, il punto è, era possibile prevedere un'uscita di curva lì, di una vettura? E poi ricordiamoci che lì sono in fase di accelerazione le vetture, sono ad alta velocità, il guardrail è molto vicino alla pista, in una posizione anomala, quasi più perpendicolare all'uscita. Quindi una vettura di pista, praticamente si centra ad alta velocità lì. Quindi secondo me la deformazione del guardrail è dovuta al fatto che lì Grosjean ha impattato davvero a altissima velocità e lì non era sufficiente per assorbirlo. Quindi secondo me non è una questione strutturale del guardrail, quanto più del fatto che lì un guardrail da solo non poteva contenere e far rimbalzare in pista una vettura di Formula 1 così a quelle velocità, perché quello è il punto. Però ragazzi... La seconda cosa è, era possibile stimare un possibile lì come punto critico, qualora si mettesse un guardrail e allora bisognava forse mettere anche delle barriere che potessero assorbire a questo punto insieme al guardrail e farlo bloccare lì, come abbiamo visto in Formula 2. Secondo me è questo il punto su cui andranno ad analizzare. In quel punto della pista per forza ci deve essere un'apertura del guardrail perché deve consentire ai commissari di poter entrare in pista, prendere la vettura e spostarla in sicurezza all'interno. Quindi loro giustamente hanno pensato, gli organizzatori di Gran Premio, tutti gli architetti, ingegneri che studiano in realtà la pista, hanno pensato di farlo lì perché è in uscita di curva e quindi può consentire ai piloti e non è in piena accelerazione. E poi era anche verso destra, quindi al limite la vettura è più probabile che finisse lunga andando verso sinistra, quindi era all'interno curva. Quindi anche lì a livello strutturale non era facile stimarlo. Secondo me verranno più che altro fatte modifiche per non far riaccadere situazioni del genere. Però non è facile e porterà uno studio non indifferente secondo me anche su altri circuiti perché quante altre piste potrebbero avere situazioni analoghe dove il guardrail è lì e potenzialmente è utile e però magari in una situazione anomala. Vediamo ad esempio anche Ericsson in curva 1 a Monza con il problema al DRS probabilmente si è scontrato sul guardrail e l'ha distrutto poi per fortuna con l'inerzia è andato dritto verso la via di fuga. Però non è facile stimare ovviamente dove ci può essere un problema delle vetture e dove esse andranno a rimbalzare. Il fatto sta che la Dallara ancora una volta ha fatto un ottimo lavoro e poi sta in alo. Quindi per fortuna l'alo ha salvato il cockpit, la struttura ha fatto la differenza anche stavolta. Garderailo o meno ha fatto la differenza. E la capsula di sicurezza hanno lavorato alla perfezione. Quella è la cosa più importante. Se non ci fosse stato l'alo è chiaro che penso che oggi non saremo qui per commentare una brutta situazione che non voglio neanche pensare perché è l'alo che poi ha protetto il sedile. ecco il punto dove il pilota sta seduto e quindi ha fatto sì che il pilota poi uscisse il leso. Tra l'altro perché impattando sulle lamiere praticamente le lamiere poi si sono aperte e una parte sarebbe inevitabilmente finita sul volto del pilota. Esatto. E poi lui è stato pronto a reagire per fortuna era cosciente e quindi non è svenuto nell'impatto e a slacciare le cinture i biotidi perché sono anche abituati perché fanno delle prove durante l'anno. Per avere la superlicenza se non erro devono anche superare il test di fuga in cinque secondi se non sbaglio comunque in pochissimi secondi. E l'alo non aiuta da questo punto di vista. Sì, poi c'è anche da dire che secondo me quando sei in quella situazione là di pericolo per la tua vita scattano dei meccanismi di sovravvivenza umana senza dubbio in cui fai tutto quanto con una velocità assurda. Io penso tra l'altro che lui in quel momento là quando è saltato quando è saltato dall'altro lato le guardrail con tutte le fratture le ostioni credo che poi si sia reso conto di averla avuta solamente dopo quando si è quando l'hanno trasportato in elisoccorso se non è forse lì se ne è reso conto dopo che gli hanno fatto gli accertamenti. E davvero da questo punto di vista sono d'accordo con sia te Tommaso che Giuseppe perché non è un atto di buonarietà secondo me quello che hanno fatto oggi del dire Grosjean pilota del giorno perché essere lucido dopo un urto del genere perché comunque era in accelerazione lì il guardrail era vicinissimo quindi la forza G che ha subito è stata fortissima seppur la velocità magari non di punta e slacciare le cinture togliere il volante col quick release lanciarlo via riuscire a togliersi anche la paratia che blocca e sappiamo tiene in posizione il casco dei piloti che spesso usano per appoggiarsi quindi doveva togliersi anche quella parte lanciarla via e vediamo anche quando i piloti sono nella fase del podio quanto faticano a volte a toglierla farla saltar fuori dall'alo prima di uscire quindi è angusto come spazio e in più uscire con l'alo il tutto in 5 secondi che è la normale procedura avvolto dalle fiamme con un caldo spaventoso perché solo Grosjean saprà che temperatura avrà toccato infatti subito tante ustioni per lui di entità ancora probabilmente da definire ma non saranno lievi credo e nonostante le ustioni ci sia da dire che la tuta comunque retto voglio dire perfetta era solo sporca di fuligine solo sporca di fuligine diciamolo diciamolo per chi non lo sa la tuta dei piloti di Formula 1 è una tuta ignifuga assolutamente in modo che non prenda fuoco anche ad alte temperature infatti viene testata anche proprio su fiamme dirette per simulare scenari diciamo proprio estremi come questo come questo che di solito non sono abituati non siamo abituati perché io personalmente non so voi a parte quell'evento in Formula 2 non mi ricordo di aver mai visto una cosa del genere in Formula 1 in diretta con tutte queste fiamme quando sinceramente nemmeno io e soprattutto aggiunta una vettura spezzata a metà guarda quello conta fino a un certo punto perché poi diciamo che la parte questo sempre per chi non lo sa la parte più resistente della Formula 1 non è tanto non è che tutta la macchina in sé per sé è fatta per resistere a un impatto la parte più importante è la capsula che è intorno al pilota quindi che in un impatto del genere la macchina di spezz in due è quasi normale certo è quasi normale perché poi no ma dico in aggiunta proprio come se fosse una scena di un film come se fosse una scena di un film solo che davvero ha lasciato tutti tutti col fiato sospeso per tanto tanto tempo assolutamente io fino a quando non ho visto Grosjean io ho temuto il peggio anch'io ho temuto veramente il peggio ho temuto veramente comunque siamo qua anche per parlare di per fortuna siamo qua per insomma ne parliamo con le gente per raccontarlo per raccontarlo esatto e credo che tutto ha funzionato al meglio nei sistemi di sicurezza ecco tutto ha funzionato tutto al meglio poi chiaramente i sistemi verranno inaspriti perché poi ogni volta che c'è un incidente così grave diciamo i parametri di sicurezza vengono ulteriormente inaspriti perché sembra non basti mai sembra che quello che c'è non fosse sufficiente per salvaguardare l'incolumità di questi piloti che spesso anche loro lo dicono quasi a volte anche noi non ce ne rendiamo conto pensiamo sempre che non capiti a noi che capiti sempre magari agli altri o comunque che ormai il livello di sicurezza sia tale che queste situazioni non accadano però di fatti sono come delle bombe caricate piene di carburante su quattro ruote ad alta velocità ed ecco un altro motivo forse anche perché ha preso così tanto fuoco la parte della scocca vicina a Grosjean e non tanto al retro è perché i serbatoi sono nelle pance e le pance sono molto vicine alla zona della capsula del pilota perché tutto il retrotreno è occupato fondamentalmente dal motore e poi chiudono molto affusolati i retrotreni per queste aerodinamiche quindi il carburante è tutto schiacciato tra pilota e motore quindi proprio nella zona di rottura ed ecco perché probabilmente c'è stata questa grande fuoriuscita di centinaia di kg appunto di carburante senti Matteo io ho una domanda per te poi cambieremo argomento perché ci sono anche altre cose da trattare fortunatamente io sapevo che i serbatoi delle Formula 1 fossero serbatoi fatti in modo tale da deformarsi ma non aprirsi secondo me siamo sempre nel campo appunto di quello che dicevamo prima è che l'effetto pendolo che si è innescato cioè la vettura in sé non doveva spezzarsi o meglio magari non doveva spezzarsi in quel modo doveva rompersi magari in diversi punti nelle zone più fragili come siamo sempre stati abituati a vedere anche banalmente venerdì quello che ha fatto Albon è andato contro le barriere però di fatti la vettura ha assorbito perché è sempre la capsula di base che assorbe la maggior parte dell'urto ed è perché ovviamente le vetture muovendosi in una direzione la punta della vettura è sempre quella più a rischio di urti e quindi è il pilota in sé che deve essere tanto protetto è vero i serbatoi sono studiati proprio per non far perdere dimmi dimmi Giuseppe no io dicevo non escluderei che adesso la FIA in qualche modo intervenga pesantemente consigliando alle squadre di posizionarle in un punto più sicuro perché sì e no perché siamo sempre parlando di questioni di spazio secondo me bisogna capire anche come fare sì che non ci siano queste situazioni adesso ti spiego il perché perché secondo me il frutto che si sia spezzata la vettura a metà e quindi secondo me lì si è stato sovrastimolato la resistenza strutturale appunto dei serbatoi e dal fatto che come dicevate anche voi benissimo uno il guardrail lì secondo me non era a sufficienza non era sufficiente per assorbire un urto non prevedibile perché comunque non si era mai verificato una cosa del genere gli studi sui circuiti vengono fatti anche per posizionare appunto le vie di fuga e i guardrail e le barriere dove sono necessarie e dove no lasciare solo tanto spazio magari delle vie di fuga per far intervenire anche prontamente i Marshall secondo me lì il nocio della questione è quello che diceva Giuseppe prima cioè lì la vettura si è proprio incastrata nel guardrail l'effetto pendolo cioè la vettura lì si è impiantata e il retrotreno per inerzia infatti abbiamo visto che ha continuato ad andare in avanti nella direzione della video esattamente quindi secondo me è stato proprio quello cioè la struttura più solida si è impiantata dentro e la parte più fragile cioè quella di congiunzione del motore ha continuato per inerzia e si è portata dietro probabilmente parte anche struttura dei serbatoi e li ha spezzati penso sia questa la causa che ha portato a questa grandissima deflagrazione e propagazione di fiamme se siete d'accordo leggerai anche qualche domanda perché abbiamo qualche appassionato sì sì assolutamente guarda volevo cambiare argomento proprio per parlare di questo perché una delle domande che vogliamo farci oggi è questa esatto per quale motivo Perez l'anno prossimo ancora non ha un sedile domanda da un milione di dollari allora chi vuole intervenire posso rispondere io per prima allora Perez ha indicato per domani per lunedì dove pare che ci aggiornerà sul suo futuro io credo che Perez è stato è un ottimo pilota però ha forse diciamo che c'è un punto del suo trascorso del suo curriculum che forse l'ha un po' rovinato ha rovinato un po' la sua carriera e non mi riferisco a quando lui era pilota della Ferrari la Ferrari non non lo confermò non gli fece fare poi il balzo ma mi riferisco a quello che è venuto immediatamente dopo lui se ricordate è arrivato in McLaren Mercedes e lì Perez ha fatto sì che in più di una occasione cominciasse ad avere un caratterino un po' esuberante un po' forse all'averstapper dei primi tempi con passare il tempo però voglio dire questo suo carattere l'ha portato a fare degli errori e Perez a differenza di altri piloti non aveva un entourage non aveva un sostegno grosso attorno a sedi di persone di manager di tecnici che poteva qualche modo aiutarlo perché lui è entrato in una sorta di imbuto stiamo parlando del 2011 12 e da lì non è riuscito ad uscire poi quando è arrivato in Forza India si è visto qualche podio qualche buona prestazione ma è rimasto sempre lì io credo che se avessi avuto non parlo di sponsor perché Perez ha portato tantissimi sponsor in Formula 1 esatto giusto per farti poi la controdomanda e come ti spiega allora tutti gli sponsor che ha portato cioè a livello economico contano anche quelli io credo che lui a un certo punto della sua carriera doveva avere una persona che in qualche modo potesse aiutare a fare quel salto di qualità che stava per fare ma alla fine non si è copiatizzato se vogliamo fare un confronto con gli altri piloti io non voglio adesso non voglio confrontare Verstappen con Perez o anche lo stesso Leclerc con Perez ma se guardate anche questi due piloti cioè Verstappen e Leclerc hanno sbagliato non lo capire Verstappen quante volte ha sbagliato ma ha avuto sempre la Red Bull e papà Verstappen che l'ha guidato Perez invece a mio avviso è trovato solo unicamente solo cioè forte solo del potere economico dei soldi perché lui aveva grossi sponsor e quindi diciamo le sue qualità sono venute un po' meno però c'è da dire anche che tra tutti i piloti della sua classe e quindi possiamo elencare Kamui Kobayashi possiamo elencare Nico Hülkenberg adesso mi sfugge però ecco di questi lui è il migliore perché Hülkenberg Marlous & Grosjean in sé Marlous & Grosjean sì però lui è esattamente il migliore perché si vede con si è visto quest'anno una vettura che sia abbastanza competitiva però quasi sul livello delle altre perché alla fine i valori tra McLaren Racing Point Renault Toro Rosso più o meno sono gli stessi si è una bella lotta per il terzo con De Guare meno è riuscito ad arrivare a una posizione non ho guardato la classifica piloti il mondiale piloti però lui era effettivamente quarto quinto quindi voglio dire non era non è un pilota da sottovalutare e a mio avviso la Red Bull in parte sta sbagliando è vero che Albon ha ottenuto un ottimo terzo posto ma credo che Perez meriti un sedile in Formula 1 ma guarda lo penso anch'io penso che dopo la gara che ha fatto oggi ma comunque con il suo talento che uno come lui non abbia un sedile sia sia un peccato però al tempo stesso penso anche che quando come tu si trovava in McLaren e non ha saputo vogliere l'occasione là ha perso un treno che passa una volta sola nella vita ma infatti io sarei stato più buro questi livelli e non a cercare scontri col compagno di squadra perché lì continuamente lui cercava continui scontri poi finiva male incidenti ritiri dovuti anche alla sua esuberanza da pilota è buono che il pilota deve fare il pilota però è anche vero che a un certo punto devi giocare la carriera quindi un passo indietro devi anche fare come hai detto tu poi Verstappen e altri hanno avuto poi più occasioni facendo anche più errori di Perez stesso però nel momento in cui magari ti trovi in quella situazione là e sai che comunque non hai tutto il supporto che ha Verstappen che hanno avuto tutti gli altri meglio una parola in meno che una parola in più insomma non so se rendo l'idea beh sì perché non contano solo gli sponsor ma conta anche se hai qualcuno che sa gestire e può fare tra virgolette la voce è grossa ecco forse anche mi collego il motivo per cui a parità di errori di gioventù Verstappen straconfermato anche quando faceva tanti errori invece quest'anno Albon è praticamente appiedato sì esatto gli errori di gioventù li sta facendo anche lui anche l'Eclerc oggi l'abbiamo visto in difficoltà faceva sì fatica a guidare la vettura lo diceva Vettel lo diceva anche lui anzi forse l'ha detto più Vettel si lamentava molto di più Vettel però palesemente oggi abbiamo visto un l'Eclerc quasi più Monaco 2019 che ci provava tantissimo e metteva quasi più la foga di riuscire a rimanere a galla quasi più di guidare in modo pulito e cercare di capire che questa non è una pista da Ferrari di quest'anno e quindi salvare il salvabile anche se ricollegandoci alla domanda che ci fa Giuseppe come vi spiegate il rendimento degli pneumatici che erano tutti praticamente uguali esatto prossima domanda questa è un'altra bella incognita Matteo questa domanda è tutta per te questa domanda mi lasciate a me la patata bollente come si suol dire non è facile allora innanzitutto spesso mi metto metto le mani avanti a volte anche Pirelli fa fatica a spiegarsi il perché ci sia o non ci sia un determinato gap prestazionale sulle gomme tant'è che in teoria doveva essere ancora più enfatizzato il fattore gestione gomme in quest'anno perché perché le vetture generano tantissimo carico aerodinamico e quindi è già stato uno dei motivi per cui l'anno prossimo vedremo dei fondi molto più tagliati nella parte posteriore proprio per ridurre in media il 10% di carico verticale questo va a influire sulle gomme che avranno meno stress e come se non bastasse quest'anno erano stato portato un terzetto di pneumatici con mescole tutte di uno step più morbide quindi le C2 le C3 e le C4 portate quest'anno rispettivamente come hard medium e soft erano tutte uno step più morbido rispetto alle C1 C2 C3 dell'anno scorso quindi in teoria dovevano essere ancora più soggetti a degradi secondo me non si è avuto forse un grandissimo degrado gomme un po' per anche per la temperatura che hanno prima cosa non era così alta come in passato ricordiamo che prima gli anni scorsi il Bahrain avveniva a marzo aprile maggio però dalle stime dicevano che non ci sarebbe stata una grande influenza sul fattore meteorologico quindi sì e no un pochino avrà giocato sicuramente il fattore climatico che se non proprio diverso e non proprio magari uguale come quando vediamo il Bahrain come seconda etappa se non erro notoriamente del mondiale seconda terza etappa esatto nelle prime tre comunque gare comunque secondo me il grande fattore che secondo me ha influenzato questa gestione delle gomme è stata anche un po' l'evoluzione della gara in sé perché il lungo stop probabilmente ha portato al raffreddamento delle gomme in una maniera enorme e quindi i piloti ovviamente lo sanno e quando riescono le scaldano ma tutti nello stesso modo cercano di spingere senza forzare troppo l'andatura perché se no le bruciano perché le termocoperte lì salvano ma non fino a un certo punto il cuore interno della gomma quindi sì sicuramente nei box le termocoperte aiutano a mantenere la temperatura standard uniforme su tutta la superficie esterna interna ma lì in pit lane non so quanto poi effettivamente riescano a mantenere in modo così assettico le condizioni ideali per mantenere la gomma subito performante appena viene data bandiera verde e quindi ci si può rischierare quindi sicuramente la gestione dei piloti è stato l'elemento chiave e quindi forse ci sono andati un po' tutti leggeri sì e no forse un po' tutti col piede cauto all'inizio poi la safety car ancora i rallentamenti continui secondo me oggi i piloti sono stati molto cauti nella gestione soprattutto nelle fasi iniziali quindi questo ha portato al al rimescolamento delle carte poi le strategie sul facciamo una sosta in più una in meno ha portato magari alcuni piloti alla fine a spingere di più però comunque non ci si spiega perché a tratti l'Eclair fosse il più veloce in pista ma comunque c'è un'altra variabile da considerare quella dell'asfalto rugoso perché in Marina abbiamo una sosta rugoso probabilmente l'opposto dell'Istanbul Park posso anche confermarlo perché ho avuto la fortuna di vedere quella pista da vicino e posso dirvi che ha un asfalto che sembra la pietra viva quando sono stato in Marina due tre anni fa sono stato proprio lì a portovista non in occasione del Gran Premio però posso dirvi che sembrava davvero una pietra viva è rugosissimo è un asfalto a vista d'occhio quindi è davvero un incontro secondo me è anche questo uno degli aspetti su cui Pirelli indagherà molto e secondo me forse anche per questo che Pirelli ha scelto come pista proprio anche il Bahrain un altro manto appunto su cui testare le mescole per l'anno prossimo per vedere come si comportano con un asfalto così abrasivo ma secondo te Matteo la Pirelli deve allargare il delta fra le varie gomme cioè le deve rendere più diverse fra di loro cioè deve fare un lavoro di questo tipo secondo me sì perché così tu dici hai più spettacolarità e puoi anche creare appunto più differenza sugli effetti del montare una gomma come l'altra invece qua c'è quasi più l'incontro allora sì secondo me in generale sì però di solito abbiamo visto anche come dalle stime il sabato una certa gomma si bruciava tantissimo in qualifica e poi la domenica magicamente ti permette di fare una dozzina di giri in scioltezza Science quindi tutti prima la scartavano Science oggi ha dimostrato che la gomma reggeva ci sono tante incognite sugli pneumatici e non è facile sempre probabilmente interpretarle perché non si basano soltanto sulla rugosità del manto stradale dipende dallo stile di guida dipende dalle condizioni meteo dipende dalle temperature del termocoperte dipende dalle temperature che sviluppano i freni perché anche i freni vanno a influenzare il cuore proprio interno della gomma anzi quasi più quasi più del movimento rotatorio sul manto stradale è davvero complesso in linea di generale sì ti direi più margine c'è tra le gomme come prestazioni e quindi delta di performance e meglio sarebbe però non è anche facile perché comunque gli elementi strutturali tu devi crearli in modo tale che garantiscano una solidità innanzitutto strutturale per la sicurezza dei piloti anche lì ovviamente si va a fare dei test omologati FIA per garantire prima di tutto una fattibilità tecnica per l'incolumità dei piloti e poi non è facile probabilmente anche portare così avanti di un anno con l'altro perché davvero Pirelli deve fare un lavoro enorme un anno con l'altro e quindi ancora tanto di cappello a questa società italiana davvero di punta da questo punto di vista non è facile adeguarsi anche con gli adeguamenti del regolamento quindi in generale sì ed è quello che cercano di fare però capisco anche le difficoltà di interpretazione ecco delle varie esigenze strutturali regolamentari o vabbè di omologazione che ci sono possiamo girare la domanda potremmo girarla a Mario Isola esatto a questo punto ce la segniamo e quando avremo l'occasione di parlare con lui prendi appunti esattamente questa ce la notiamo ed è anche un monito quindi per voi per rimanere sempre sintonizzati sui nostri canali perché abbiamo tanta 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 carne al fuoco oggi davvero esatto poi comunque vi ricordiamo che noi siamo riusciti su tutti quanti i social network e se volete rimanere aggiornati anche per esempio sulle condizioni di Grocian sui eventuali sviluppi riguardo all'incidente insomma rivedere anche dettagli appunto immagini o elementi che noi non abbiamo riproposto qui per questione di tempo ovviamente tutti i canali nostri tutti i nostri canali social sono lì per voi esatto volendo parlare brevemente di Ferrari io direi che possiamo rassumere la gara dicendo che il Bahrain è una pista di motore esatto senza dubbio perché il Bahrain lo sarà ancora di più esatto esattamente è un ovale la prossima gara praticamente dico sotto un minuto non vedo l'ora esatto sai che secondo me potrebbe allora è un esperimento che verrà fatto vedremo cosa porterà io sono sono convinto che diventerà insomma l'indicar si fa da altre parti secondo me non si fa non si fa qua vedremo comunque è un testo esatto che comunque continua a portarsi dietro questa zavorra di un motore fortemente ridimensionato che che diversamente dagli altri anni è stato più importante del previsto perché facendo l'esempio del 2017 il 2017 non è che la Ferrari avesse un motore sicuramente meglio di questo ma comunque non era un motore molto molto performante ma guarda Tomato ti posso rispondere subito il problema è legato essenzialmente alla scarsa efficienza aerodinamica che la Ferrari 2020 ha perché è vero sì anche nel 2017 non c'era tanta efficienza aerodinamica ma quella ed era una gara ed era una vettura la SF70H che era un animale da gara cioè io ricordo le prime gare anche se non faceva le pole aveva un passo gara che era monster cioè trattava le gomme benissimo quindi era una delle poche vetture in pista che non soffriva di problemi cosa che invece ha sempre notoriamente fatto Mercedes ad esempio esatto e vi ricordate che c'era il discorso del battistrada più alto più basso e quella specifica quella mescola lì quel tipo di gomma lì era la gomma che preferiva di più la Ferrari poi 2018 si arrivò a 2019 all'altra il battistrada un po' più alto il Mercedes che ritornava ad essere più competitiva comunque erano condizioni quelle del del Barenia 2017 tra caldo gomme e Ferrari che trattava in maniera molto molto positiva le gomme che portarono poi a fettola a vincere per due anni consecutivi quel Gran Premio oggi abbiamo visto una Ferrari completamente in difficoltà passo in passo gara anche ieri in qualifica anche se io sinceramente a un certo punto ho sperato nel Q2 perché vedevo che quando hanno fatto il secondo del Q2 che erano lì loro cioè Fett e Leclerc sembravano essere avere il potenziale per entrare in Q3 ma poi tutto tutto è svanito e io voglio ribadire una cosa che mi sa un po' di strano effettivamente non so se siete d'accordo con me sulla decisione della Ferrari espressa anche da Mattia Binotto in questi giorni di fare un di autofrunt per quanto riguarda il conciugamento delle power unit cioè la Ferrari ed è qui che mi intrometto proprio per questo motivo ci devi spiegare questa cosa esatto abbiamo il motorone adesso per il 2000 abbiamo il motorone allora adesso aspettiamo che la regia se riesce a condividere lo schermo è esattamente qua ecco perché secondo me Ferrari sta puntando forse sul budget sul non so ovviamente dopo aver portato la firma sul budget cap adesso vuole puntare anche il congelamento dei motori perché sembra che Ferrari abbia una svolta ossia questo jet in action come tipo di tecnologia che rivoluzionerà appunto la power unit la nuova generazione di power unit che si chiama appunto super fast che dal 2021 verrà introdotta sulle monoposto di Maranello e ovviamente team clienti questa questo speciale ovviamente struttura farà guadagnare davvero delle prestazioni non indifferenti alle monoposto appunto del cavallino e al motore appunto del cavallino in collaborazione con mail male l'azienda tedesca che da tantissimo da più di vent'anni lavora con Ferrari ecco adesso vi faccio vedere velocemente alcune immagini poi l'articolo ovviamente lo trovate sempre in sul nostro sul nostro sito quindi sempre presenti la grande differenza che questa tecnologia porterà nelle power unit sta nel fatto che l'innesco e l'immissione del carburante nella camera di scoppio quindi avverrà in modo differente attualmente abbiamo questa struttura in cui vi è fondamentalmente questa sezione che viene stimolata a livello elettrico e che cosa fa sì che ci sia c'è un solenoide che ovviamente se viene stimolato elettricamente si contrae si porta dietro tutto questo ugello che tappa questa sezione da cui viene anche già caricato ovviamente carburante a 500 500 bar ovviamente di pressione e quindi muovendosi verso l'alto questo viene spruzzato e diventa automaticamente nebulizzato all'interno della camera di scoppio ma vedete con un raggio ristretto quindi nella camera di scoppio queste zone queste zone qua che sono colorate di rosa non vengono sfruttate e quindi vi è una potenziale perdita di potenziale in detonazione quindi in sfruttamento della superficie anche del pistone ovviamente poi dopo che cessa questo impulso elettrico una molla riporta tutto nelle condizioni standard quindi si ferma l'innesto e quindi l'emissione di carburante all'interno della camera di combustione invece con la tecnologia appunto jet in action verrà rimodificato totalmente il sistema di accensione e emissione del carburante vedete che qua non c'è un'unica zona in cui tutto si verifica perché qua c'è la zona di stoccaggio possiamo chiamarla così del carburante e qua sarebbe la zona di accensione quindi nella camera di combustione invece qua ci sono due zone fondamentali ossia questa non è più la zona dove viene stoccato il carburante ma il carburante viene immesso da questo ugello in modo costante più volte centinaia di volte al secondo qui vi è la candela ovviamente scusate qua viene immesso il carburante questa è la candela di accensione che manda degli scintilli ovviamente più e più volte all'interno della camera di una pre-camera di combustione appunto e qua vediamo e poi la grande differenza lo farà questo diffusore che farà sì che questo gas questo combustibile quindi il carburante shell che ha subito già una fase di pre-combustione verrà immesso all'interno della camera già non nebulizzato ma in uno stato aeriforme e quindi si potrà sfruttare molto meglio tutta l'intera superficie del pistone e della camera di combustione il che permetterà di aumentare in modo molto migliore l'efficienza applicata ai propulsori e questa tecnologia quindi dovrebbe portare davvero un vantaggio competitivo alla Ferrari che dovrebbe averla a questo punto se già noi abbiamo avuto modo di avere queste informazioni dovrebbe già averla omologata e quindi già a partire dalla prossima stagione presente sui vari power unit quindi questa è il cuore forse del motorone che si aspettano oltre ad altri magari aspetti che stanno cercando di sviluppare e sono ancora momentaneamente segreti quindi se continuano su questo processo ovviamente molto spinto di innovazione tecnologica è forse questo il motivo ragionevole per cui Binotto vuole puntare a congelare i motori perché questo garantirebbe per più e più anni un monopolio prestazionale non indifferente nel ringraziarti per questa pillola e ringraziare anche un amico di F1 in podcast ricordiamolo che è Fabiano Mandone con Crono GP che ci delizza sempre con le sue con le sue pillole di saggezza anche lui assolutamente volevo chiederti se l'olio che era diciamo tanto discusso negli anni passati fino alla passata stagione avrà un ruolo fondamentale perché mi sembra di capire che Ferrari abbia in qualche modo avviato all'utilizzo dell'olio attraverso questa nuova tecnologia sì sicuramente questa nuova tecnologia porterà un vantaggio perché al netto è sempre il carburante in sé che fa il lavoro sporco cioè fa muovere tutti i pistoni e di conseguenza mette in rotazione l'albero motore l'olio qua viene mostrato all'interno appunto nel video che vi ricordiamo e vi consigliamo di andare a vedere appunto di Chrono GP come dicevi tu Giuseppe viene mostrato appunto nella parte bassa quindi proprio nella zona di lubrificazione di tutta l'apparato della power unit appunto termica in questo caso secondo me se si riuscirà poi bisogna considerare che la FIA ha analizzato molto molto accuratamente è una zona potenzialmente grigia che ormai grigia non è più perché la FIA l'ha analizzata molto bene quindi secondo me è per questo che stanno molto spingendo su un un ridisegno da capo di tutta la power unit perché è stata ridisegnata da zero da foglio bianco sono partiti in questa nuova power unit appunto dai motori super fast copriremo a stagione inoltrata cosa accadrà sulla power unit Ferrari e io credo che adesso questa è una prima risposta cioè l'accordo segreto che tutti hanno accreditato a febbraio scorso credo che sta portando ecco i suoi frutti Ferrari secondo me sì sta collaborando e quindi insieme stanno cercando di capire dove poter andare a recuperare in che direzione portare e indirizzare lo sviluppo delle power unit dato che comunque ricordiamoci Ferrari tralasciando quest'anno è stata negli ultimi anni leader a livello di sviluppo del motore termico quindi Ferrari pare che voglia anticipare al 2025 le nuove power unit o meglio l'introduzione dei sistemi a zero emissione quindi questa è una cosa voglio dire positiva c'è una discussione con Mercedes Mercedes forse non vuole è ancora in ballo questa trattativa però ecco Ferrari sta secondo me spingendo tantissimo anche perché diciamo che sembra un po' brutto dirlo però credo che Ferrari voglia collaborare con la FIA per poter scrivere insieme il nuovo regolamento sportivo cosa che ha fatto fare anche una svolta più sostenibile che comunque ricordiamo di questi tempi non è una cosa indifferente se non ricordo male avevo letto una notizia che su un importante palazzo forse di New York era stato messo mostrato appunto come display un orologio digitale che mostrava un countdown al collasso strutturale delle risorse della terra ed è a sette anni da qui a sette anni quindi comunque se si vuole dare dei significativi cambiamenti poi ricordiamo che tutte queste tecnologie poi vengono anche immesse nel circuito della produzione in serie di vetture non solo le monoposto spesso le tecnologie le power unit ibride appunto che ormai nei motori ibridi vediamo da tanti anni in circolazione su le vetture che tutti noi possiamo avere giù in garage sono da tempo zona di grande sviluppo e ricerca prima ancora dei vari team e delle varie case costruttrici a livello motor sportivo quindi senza dubbio ha senso questo lavoro che sta facendo Ferrari anche perché probabilmente se sta spingendo anche da questo punto di vista è perché magari ha qualche asso ancora nella manica beh questo lo vedremo da qui ai prossimi anni sicuramente ad oggi questa tecnologia dovrebbe garantire un compenso di prestazioni non indifferenti che ne pensate della dichiarazione di Hamilton per cambiare argomento l'abbiamo citato poco oggi Hamilton hai passato davvero in sordina oggi esatto non fa più notizia ormai da tanto tempo io credo che la risposta che ha dato al giornalista in conferenza stampa in merito al budget cap sullo stipendio dei piloti è stato domanda tagliente ovviamente io credo che lì sia una caduta di stile lasciatemi passare non me ne vogliono i tifosi di Hamilton ma credo che fai una cosa Giuseppe ridi più o meno come sono andate le cose perché magari tutti hanno letto stampa è stato chiesto a Hamilton se magari potesse d'accordo sul discorso dell'introduzione del budget cap sullo stipendio dei piloti salary cap ecco per meglio precisare esatto il salary cap meravissimo di Franz Tost che come tutti sappiamo il team principal della Toro Rosso dell'Alfa Tauri e lui ha detto si è fermato un attimo ci ha pensato ci ha pensato e poi ha detto ha contato le cifre nella sua testa ha detto ma chi è Franz Tost e lì secondo me è stata un po' una chiusura di stile ma Hamilton sicuramente conosce Franz Tost l'avranno detto sicuramente per dire chi è costui che si permette di mettere in discussione lo stipendio che io guadagno ora io voglio essere un po' cattivo no? perché così dite voi che io sono cattivo e voglio esserlo fino in fondo fino in fondo io vi devo fare ma Giuseppe deve fare l'avvocato del diavole mette e punzecchiare sempre allora io dico ma non è una caduta di stile di un sette volte l'ampione del mondo cioè che svela le sue carte no? per me Hamilton ha detto ok io sono contrario a sala di catto posso dirtela l'ha detto non è elegante però era quello l'intento secondo me voi cosa ne pensate? ti direi sì e no fino a stamattina ossia ti direi quasi più sono d'accordo con te perché comunque parliamo di cifre enormi e forse come dicevamo già in puntate precedenti non è il problema in sé che i piloti chiedono ma il punto è proprio un sistema sportivo che è incentrato sul dare tantissimi risorse di capitali ai piloti quindi al limite è una questione proprio del sistema che è incentrato talmente tanto sullo sport che fa girare un'economia enorme e di conseguenza anche gli stipendi li evitano posso dirti una cosa? però adesso ti faccio un'altra domanda a parità di stipendi presi da tanti sportivi non è che se li meritano forse rischiando la vita così tanto oggi io mi ricredo gli dico va bene diamoglieli perché comunque se il sistema è così che bisogna dare tanti soldi agli sportivi e sicuramente purtroppo rimarrà così perché lo sport piace a tutti e c'è un è un'industria quella dello sport in generale ricordiamoci che in certi sport davvero rischiano anche la pelle in proporzione agli soldi che prendono perché tu puoi prendere 30, 40, 50 milioni ma se succede una cosa come quella di Grosjean non è la frontezza di riflessi per uscirne e la fortuna perché ci sarà stato anche il fattore fortuna dell'avere la lucidità del non subire la decelerazione ed essere lucido per uscirne con le tue gambe te ne fai di pochi ti servono a poco 30, 40, 50 milioni quindi secondo me loro piuttosto se li meritano più di altri questa è la risposta che mi darei oggi e me ne rendo ancora più conto io guarda voglio controbassare questa idea e voglio anche rispondere a Giuseppe che dice che sono anti Hamilton ti hanno beccato ragazzi veloce che siamo in chiusura mi raccomando volevo solo diciamo dire che il mio non è essere un anti Hamilton anzi abbiamo sempre esaltato il grande campione i suoi record però c'è anche da dire una cosa io credo che ecco questo è un anno particolare pandemia i diritti umani ancora una volta i diritti della la tutela dell'ambiente la salvaguardia quindi io credo che i piloti ma non solo Hamilton tutti i piloti credo che adesso visto che si sono anche tutti diciamo hanno tutti accolto il messaggio Black Lives Matter e Race As One cioè questi slogan che ormai sono diventati mondiali credo che tutti debbano fare a questo punto un passo indietro cioè dimostrare al mondo per la prima volta per la prima volta in sport così importanti come la Formula 1 che ecco non serve quasi a nulla mettere all'asta un casco ecco questo voglio anche riferirmi a un pilota Ferrari no a Vettel quando poi cerco guadagno così tanto e questo che io ribadisco è un po' una controtendenza perché forse fare o tutti un passo indietro magari creare una specie di non dico onlus ma comunque indirizzare parte del proprio stipendio tutti a una causa comune in particolare potrebbe essere un simbolo non indifferente in particolare quest'anno così particolare quindi benvengano tutte le varie dimostrazioni sportive a questo fine e ricordiamo anche la gara che tu hai organizzato Matteo ho ci tengo a pregiare ho contribuito a partecipare perché è stato un lavoro coordinato di tanti membri all'interno di Formula 1 in generale dai dai vertici appunto della nostra redazione abbiamo invitato tanti ospiti quindi davvero è stato un lavoro di squadra non indifferente e benvengano secondo me tutte queste attività che sia nel piccolo che nel grande possono dare un contributo non indifferente per salvare vite perché obiettivamente se fare un passo indietro secondo me forse piuttosto che fare un passo indietro negli stipendi indirizzarli ed evolverli per delle cause non umanitarie di un certo spessore secondo me è ancora più importante indipendentemente dalle cifre e tutti secondo me soprattutto in quest'anno abbiamo capito l'importanza dell'essere a disposizione con le proprie risorse per il prossimo ecco e un'altra cosa che abbiamo capito è che un'altra cosa che ci tengo a precisare è davvero quanto piacciono ai nostri ascoltatori spettatori gli interventi di Cinotti e Cinotti a me sembra un pochino anti-Hemington io mi schiero da parte dei lettori è un po' anti-Hemington secondo me su questa battuta direi di chiudere quale episodio ci siamo dilungati abbiamo trattato tutto quello che era da trattare io ringrazio Matteo per i suoi contributi impareggiati ci proviamo esatto comunque grazie ancora è stato un piacere grazie a Giuseppe per i suoi interventi sì è stato un piacere essere con voi qui questa sera e le sue punzecchiate no volevo solo chiudere ricordando Diego Armando Madradona la scomparsa e anche questi giorni abbiamo pubblicato sul nostro profilo Instagram le foto di quando Madradona andò ad omaggiare a Erton Senna ecco quindi queste cose sono belle da vedere da ricordare perché ecco quando i grandi campioni dello sport si uniscono ecco quella è stata forse una grande una grande la magia dello sport proprio a 360 è la passione ecco che unisce i grandi sportini esatto e grazie anche a tutti i nostri appunto ascoltatori che hanno attivamente partecipato che partecipi in modo così attivo è molto importante per noi anche un apprezzamento insomma del lavoro che facciamo assolutamente e anche meglio perché ci danno tanti spunti interessanti su cui ragionare e punzecchiare Giuseppe quindi per le prossime volte tanti messaggi per punzecchiare ancora di più Giuseppe così lo mettiamo proprio alle strette glielo facciamo dire vi ricordo che tra poco la puntata sarà disponibile su YouTube e su tutti quanti i nostri canali podcast l'appuntamento è alla prossima settimana per il secondo GP del Bahrain in questo circuito in questo layout particolarmente anomalo che appunto crea molti interessi io vi ringrazio nuovamente l'appuntamento è a domenica prossima per il dopo GP buona serata a tutti buona serata a tutti ragazzi ciao